Nella giornata in cui Napoli gli ha conferito la cittadinanza onoraria, Giuliana Assange torna a riaffacciarsi su Partenope con un nuovo Morales, presentato a Scampia e inaugurato alla presenza di sua moglie, Stella Morris. La compagna del giornalista e attivista di Wikileaks ha incontrato Trisha Palma, l'autrice dell'opera a Scampia, al civico 140 di via Ghisleri, dove ora il volto di suo marito scruta con decisione e risolutezza all'orizzonte. Al suo fianco una pagina di giornale che annuncia il drammatico avvicinarsi del giorno X, il giorno in cui la corte di Londra si pronuncerà sull'estradizione di Assange negli Stati Uniti, per scontare 175 anni di carcere. Intanto il giornalista è già in prigione nel Regno Unito. Stella lo ha visto l'ultima volta solo pochi giorni fa. Ho visto Julian la settimana scorsa. Non sta bene, soffre. Ogni giorno che passa in una cella è un giorno in cui la sua salute si deteriora e spesso passa 22 o 23 ore al giorno in cella. Sarà un giorno bellissimo quando Julian potrà uscire, spostarsi da uomo libero e visitare questa città che lo ha accolto con così tanto calore. Per Trisha Palma, l'autrice dell'installazione artistica inaugurata a Scampia, quello dedicato ad Assange non è un murale come tanti. Secondo me la cosa più importante è la libertà, in generale. Libertà di parola prima di tutto, manca la libertà di vivere. Noi avevamo pensato a questo murale prima che succedesse tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, ovviamente, però calza proprio a pennello perché ognuno deve essere libero di vivere. Il messaggio che vogliamo dare, in particolar modo, è questo. La libertà è la cosa più importante che abbiamo. Ogni uomo ha diritto a questa cosa, non è che c'è libertà di classe A o classe B.